Assemblea pubblica di Avellino prende parte presso la chiesa del Carmine. Dopo la rottura con il Campo Largo, HAP ha presentato un programma di sei punti, sei proposte imprescindibili per sancire un patto per la città. Un accordo per tentare di salvaguardare una possibile coalizione del cambiamento. Il futuro di Avellino non è un affare privato, bisogna ripartire dalle esigenze della comunità. Noi quello che diciamo è che bisogna aprire un patto nuovo, andare oltre quello che c'è stato fino a questo momento, perché è arrivato il momento di discutere anche con tutti quei pezzi che sono stati tenuti fuori. Quindi se c'è la disponibilità a stare sui punti che abbiamo, per noi i punti che abbiamo posto sono la base di discussione e speriamo che oltre a discutere con noi si possa discutere con tutti gli altri. E quindi non è più, non si tratta più solo di Campo Largo, ma si tratta di centro-sinistra da riunificare. Vediamo chi c'è, chi ci vuole stare, chi vuole partecipare a questa sfida per la città che ricordiamo è contro le destre, contro la deriva del civismo populista e non tra il centro-sinistra e la sinistra e viceversa. Chi decide probabilmente deve aprire le orecchie a quello che la città chiede in questo momento.